Nei weekend da giugno a settembre ti aspettano i modelli prestigiosi di Dug Auto in alcune delle piazze più belle dell'Irpinia. 18 giugno Volturara Irpina, 25 giugno Ariano Irpino, 2 luglio Montella, 29 luglio Calitri, 2 settembre Abella. Mercedes-Benz, questa estate tra le meraviglie dell'Irpinia. In tour anche le telecamere di Prima TV e Tele Nostra. Seguici sulla nostra pagina Facebook Mercedes-Benz Dug Auto. Nei confronti del ragazzo che il 12 novembre 2015 si era canito sui corpi della mamma e del padre. Li aveva massacrati nel sonno a colpi d'ascia. I cadaveri occultati in casa erano stati ritrovati solo 48 ore dopo le carabiniere in la stazione di Frigento. In un primo momento si era parlato di un vizio di mente con il giovane che aveva agito in un raptus di rabbia e follia, senza però escludere del tutto la capacità di intendere e di volere. Un soggetto socialmente pericoloso, in grado però di difendersi e partecipare al suo processo, anche se sembra abbia rimosso del tutto le ore in cui è stato commesso il duplice omicidio. Per questo Ivano è la sua cella in carcere, seguito anche da un'equipe di specialisti in un percorso di recupero, per cercare di far riaffiorare in la mente del ragazzo i ricordi relativi a quel tragico 12 novembre 2015. Quattro